Caroti gira intorno a benvenuti che fa comunque un buon lavoro ci prova dalla lunga distanza ed eccola qui la mano di Mobbio Valentini contro Packer, altra frenata e altro canestro Gazzotti ignorato, palla persa quasi in realtà perché arriva Valentini fuori equilibrio, che tripla a proposito di triple, ne finta una, ribalta Valentini, piedi a posto, di tabella mamma mia, allora De Negri avrebbe un po' di spazio, sceglie l'assist per Pecchia che ne segna altri due, attenzione a Lacy si separa da penna e poi infila il più due la Vanoli vince anche gara due a Forlì proprio non sa perdere in questa stagione